Buongiorno, sono Maria Teresa Giraudo del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino. Mi occupo di statistica in particolare legata ai temi della vita e all'epidemiologia. Il lavoro è nato in collaborazione con Manuele Falcone dell'Agenzia regionale per la salute della Toscana e Cesare Cislaghi è pieconomista. MADE è uno strumento per aiutare a capire l'epidemia e supportare le decisioni. Si tratta appunto di un portale per il monitoraggio e l'analisi dei dati dell'epidemia in Italia che è ospitato sul sito della rivista Epidemiologia e Prevenzione e sul sito dell'Associazione Italiana di Epidemiologia che ha ispirato questo lavoro e questo servizio. Invitiamo a visitare il sito in modo tale da rendersi conto di tutte le opzioni, le funzionalità che offre e a approfittare anche delle opzioni di interattività che sono contenute nel sito. L'idea è stata quella di rendere facilmente accessibili i dati ufficiali. Utilizziamo i dati che la protezione civile rende disponibili pubblicamente ogni giorno, dati aggregati, per offrire il monitoraggio e l'analisi dell'andamento delle variabili epidemiche di interesse. Il sito, il servizio è pensato sia per operatori e decisori del settore che per chiunque sia interessato all'argomento e nasce dal nostro intento di unire la capacità di ricezione dei dati in termini strumentali, algoritmici e culturali con la volontà effettivamente di trarre informazione da essi in modo tale da poter essere eventualmente di utilità e quindi di impatto nell'ambito delle decisioni che i decisori di sanità pubblica sono chiamati a prendere per modificare o confermare in un senso o nell'altro le misure di contenimento dell'epidemia. Il sito contiene una molteplicità di sezioni che non è possibile evidentemente descrivere dettagliatamente, vi invitiamo appunto a visitarlo e in particolare si considera la descrizione degli indici appunto epidemici per valutarne il percorso ma anche la velocità e l'accelerazione, quest'ultima in particolare attraverso l'indice di replicazione diagnostica rdt che abbiamo introdotto che è simile e parallelo all'indice rt e di cui è possibile calcolare anche l'intervallo di confidenza in made. Abbiamo quindi una sezione per monitorare i cambiamenti e colerne per tempo i segnali di crescita o decrescita, quindi l'evoluzione epidemica. La sezione in cui viene valutata la letalità intesa come case fatality ratio con un leg tra il monitoraggio dei decessi e il monitoraggio dei nuovi positivi di 14 giorni. Abbiamo introdotto un indice cosiddetto di gravità che combina gli indici di letalità appunto spedalizzazione e intensità terapeutica. Stimiamo il livello di suscettibilità della popolazione tramite la stima dei probabili immunizzati e valutiamo anche in modo indicativo una stima del rischio futuro per le singole regioni. Alcune di queste opzioni sono disponibili sia a livello italiano che a livello delle singole regioni o province autonome. Sarebbe impossibile appunto fare anche solo una breve carrellata di tutte le funzionalità presenti nel sito. Riporto solo alcuni esempi, l'andamento appunto di variabili epidemiche come il tasso di incidenza dei positivi per l'Italia in verde per alcune regioni, l'indice di replicazione diagnostica dall'inizio dell'anno alla prima settimana di novembre con il relativo intervallo di confidenza per l'Italia e in basso per alcune regioni in modo da fornirne anche un quadro sinottico. Per quanto riguarda l'evoluzione epidemica nazionale, elaboriamo semplici modelli di tipo lineare o esponenziale per un periodo di due settimane, periodo di training, per poi utilizzarli nel periodo di test nei giorni successivi in modo da valutare se l'andamento rimane il medesimo o si evidenzia invece un'accelerazione, decelerazione o stallo, valutando anche i residui per fornire maggiore forza a queste osservazioni, a questo monitoraggio. La stima del rischio futuro viene rappresentata sia in termini di mappe geografiche che in termini di bar plot della stima del rischio ovviamente indicativo per le varie regioni. Al di là del valore specifico con l'evidenziazione delle soglie che vengono selezionate a piacimento, si nota come le regioni per cui il rischio risulta più elevato corrispondono comunque a quelle che effettivamente vengono segnalate anche da altri canali. La letalità per un buon periodo ha assunto un valore intorno al 2% per poi decrescere ultimamente. La gravità è un indice che non ha tanto un valore assoluto quanto di confronto tra i vari periodi, quindi comparativo e ultimamente è in decrescita. La stima dei probabili immunizzati fornisce un valore di percentuale della popolazione italiana che non è discosto in termini qualitativi da quello anche qui valutato tramite altre fonti o tramite soltanto la vaccinazione. Per quanto riguarda il sito vi invitiamo anche a interagire e a fornire eventualmente i vostri commenti tramite il blog che vi è contenuto in cui ci sono anche interventi, ci sono interventi che commentano la situazione in momenti vari dello sviluppo dell'epidemia e a scaricare il report giornaliero che contiene un'indicazione sintetica dell'andamento delle variabili ogni giorno. Lo sviluppo futuro del sito male potrebbe essere quello, oltre che di continuare per un periodo speriamo breve il monitoraggio dell'epidemia di Covid-19, potrebbe essere l'utilizzo per altri contesti di sanità pubblica in cui sia importante un monitoraggio in tempo reale dell'andamento delle variabili di interesse. Vi ringrazio molto per l'attenzione.